Buon giovedì 8 dicembre, gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Indagine CNA, sentiamo. È inutile dire che stiamo vivendo un periodo eccezionale, ormai da tre anni a questa parte, in cui una serie di fattori sono andati a sovrapporsi l'uno con l'altro. Quindi le imprese, come tutta la società civile in Italia, sta soffrendo quelli che sono dei fattori che vanno a determinare anche la vita e la quotidianità di ognuno di noi. E quindi, se pensiamo a pandemia, all'instabilità geopolitica, il rincario delle materie prime, il rincario energetico, possiamo capire che il quadro è tutt'altro che confortante. Malgrado questo, e viene anche citato nel secondo rapporto di stabilità finanziaria della Banca d'Italia, malgrado questo il sistema del nostro paese, in cui vediamo coinvolte il sistema banche, quello delle imprese, quello delle famiglie, si sta presentando a questo appuntamento, diciamo con la storia socio-economica del paese, si sta presentando con una solidità che prima in altre crisi non ha avuto, pensiamo al 2008. Le banche hanno una patrimonialità più consistente e comunque i loro margini sono anche aumentati in virtù anche del rialzo dei tassi di interesse, le famiglie hanno un livello di indebitamento medio molto basso rispetto al contesto internazionale, le imprese stanno beneficiando ancora, non tutto purtroppo, però della liquidità accumulata durante il periodo pandemico, grazie anche alle misure previste dal governo, pensiamo per esempio ai finanziamenti di liquidità, quei famosi 25 mila euro, insomma. Però il preammortamento sta per scadere e i 24 mesi stanno scadendo e quindi poi dovranno rendere conto all'istituto bancario e ovviamente cominciare a restituire il finanziamento ottenuto. Anche se va detto che secondo Banca d'Italia la sofferenza creditizia nel sistema bancario non si sentirà più di tanto. Detto questo, le nostre imprese comunque oggi stanno soffrendo come non mai più per l'aspetto dovuto al rincaro a materie prime, rincaro energetico, soprattutto il secondo dei due adesso in questo momento, ma comunque la sofferenza è forte. Tant'è vero che quella di cui parliamo oggi è una fotografia, non può essere un quadro previsionale perché se si nota lo stesso fondo monetario e le stesse istituzioni economiche di rilievo del Paese ma anche a livello internazionale hanno previsto per esempio una recessione già nel terzo trimestre che non c'è stata per l'Italia perché in realtà ha segnato seppur una minima crescita positiva. Veniamo alle nostre province. è uscita adesso la congiuntura del terzo trimestre tra aperture e cessazioni rilevata dalla Camera di Commercio di Quadrante del nostro riferimento vi posso dire che al momento rispetto a una media regionale la provincia di Novara è quella che ha segnato il risultato migliore in linea con la media nazionale perché già la media regionale è un pochino più bassa segnando un saldo positivo tra inizio e cessazioni di più 80. Sono dati che non si vedevano da tempo. La differenza rispetto all'anno scorso è che mentre l'anno scorso il più è stato segnato soprattutto dall'inizio di molte attività delle costruzioni dovute al super bonus per cui diciamo lasciavano un pochino il tempo che trovavano perché una volta che finiranno questi benefit o queste misure agevolative ovviamente difficilmente queste aziende rimarranno ancora aperte e attive sul territorio. Invece quest'anno la ripresa è il più segnato soprattutto dal settore turismo e dal settore dei servizi che segnano il segno più positivo. Quindi un saldo positivo di più 80. Anche l'alba artigiani è in positivo seppur in leggero positivo. Ripeto arriviamo da una decina d'anni in cui il segno era negativo. Poi dovremo vedere nel quarto trimestre quante saranno le effettive cessazioni. Vercelli anch'essa segna un segno più ma qui a trainare la positività del dato è soprattutto il settore delle costruzioni. Però abbiamo comunque anche su commercio e turismo abbiamo un buon tasso di crescita. Se invece andiamo a vedere il verbano Cusiossola lì invece troviamo un segno negativo. Un segno negativo che tra l'altro segna più marcatamente il meno proprio nei settori del turismo e del commercio che è un segnale molto importante perché già avevamo come CNA Piemonte Nord sensazione di sofferenza sul territorio. VCO è a vocazione turistica. Vuol dire che qualche cosa si sta inceppando e quello che sta arrivando nel VCO potrebbe poi arrivare anche nelle province di Novara e Vercelli. Proprio per questo che non riusciremo a fare una previsione dell'anno che verrà sappiamo che sarà comunque un anno di sofferenza come lo stato anche il 2022 consapevoli però che banalmente se l'instabilità geopolitica dovesse fermarsi dovesse risolversi alcune questioni visto che la bolla energetica e soprattutto di natura finanziaria dovrebbe trovare poi il suo normale svolgimento nel giro di pochi giorni di poco tempo proprio e quindi ritornare ai livelli prepandemici come costi delle materie prime. Al pronto soccorso di Vercelli attiva un percorso dedicato per le donne vittime di violenza. Ne abbiamo parlato con la responsabile dottoressa Roberta Marino. Sentiamo. Donne vittime di violenza ve lo avevamo anticipato e quindi continuiamo a parlare di questo tema che ci sta molto a cuore. A Vercelli presso il pronto soccorso c'è un percorso dedicato a queste donne. La responsabile del reparto la dottoressa Roberta Marino è qui con noi. Allora gli accessi come sono? Sono aumentati? Sono costanti? Allora stanno diminuendo negli anni fortunatamente probabilmente perché intercettiamo anche prima diciamo che diventino situazioni più gravi però ce ne sono ancora tanti. Adesso settimana scorsa è stata la giornata dedicata alle vittime di violenza. Abbiamo fatto degli eventi e questa pubblicità comunque ha portato altre persone a rivolgersi al nostro servizio. Quando si rivolgono? Cioè nel momento in cui ci sono dei fatti acuti quindi sono ferite oppure anche prima per essere aiutate? Tutte e due le situazioni. Abbiamo pazienti che vengono per fatti acuti magari non rivelano immediatamente qual è l'origine del problema ma noi sospettiamo? Facciamo delle domande mirate e di solito veniamo poi come dire a scoprire che effettivamente si tratta di violenza domestica. Oppure situazioni magari di vecchia data che arrivano all'esasperazione e quindi capiscono che hanno bisogno di chiedere aiuto. Oppure che è poi forse la versione più brutta quando ci sono anche bambini coinvolti quindi magari i minori diventano testimoni dell'atto di violenza e quindi a quel punto la madre capisce che è il caso di chiedere aiuto. Come le aiutate? Al di là della cura del momento ma poi il percorso come prosegue? Allora il percorso inizia dal triage perché hanno un codice dedicato riservato e prioritario rispetto agli altri perché queste persone non devono rimanere in attesa quindi al di là delle urgenze più gravi le vengono poi viste con priorità. Oltre all'aspetto clinico ovviamente c'è un aspetto psicologico che è molto importante e un aspetto sociale quindi facciamo un'indagine anche dal punto di vista psicologico e soprattutto dal punto di vista sociale per capire come le possiamo aiutare. Quando non hanno possibilità di stare in sicurezza non vengono dimesse ma vengono messe in protezione in strutture preposte dedicate e segrete chiaramente in maniera tale che non abbiano più il rischio e nel frattempo si possa agire dal punto di vista diciamo legale. Denunciatevi, ricordatevi. Assolutamente. Ed ora torniamo a Novara dove coloriamo la sala operatoria. Da maggio 2022 sono circa 500 i piccoli pazienti accolti con sorpresa dai coloratissimi personaggi della fiaba intitolata Emozioni sull'isola di Amore. Abia sviluppato quest'anno il noto progetto Coloriamo la sala operatoria, primo caso in Italia di accompagnamento dei bambini all'intervento chirurgico mediante il dono e la lettura di un libro e la successiva videoproiezione nella pre sala operatoria. Il progetto dimostra la sua sostenibilità e raccoglie il riscontro positivo non solo dei bambini e dei loro accompagnatori ma anche del personale sanitario che attiva in prima persona il video ogni giorno. Abio sempre accanto ai bambini in ospedale nell'anno 2022 ha realizzato uno dei più bei progetti realizzati in questi ultimi anni, anzi forse il più particolare nel senso che è un progetto davvero innovativo. Abbiamo voluto infatti sviluppare un'idea nuova che è quella di accompagnare i bambini all'intervento chirurgico attraverso l'importante esperienza della lettura di una fiaba ma anche un momento sorprendente all'interno della sala operatoria e cioè a tutti i bambini ricoverati viene donato un libro, Emozioni sull'isola di Amore, che parla proprio di Emozioni ed è un libro multilingua che viene edito da Adnav Edizioni, viene donato a tutti i bambini ricoverati e la mamma ha così modo di raccontare la storia al proprio bambino e ingannare così con dolcezza e attraverso questi personaggi coloratissimi il momento dell'attesa all'intervento chirurgico. Con sorpresa, quando i bambini entreranno nella sala operatoria, troveranno sopra di loro la proiezione di questi personaggi che si affacciano dal cielo, dalle stelle, dalle nuvolette e si rivolgono a loro per tranquillizzarli. Questa proiezione è stata realizzata insieme a Mediaper di Gianni Dalbello, è un progetto molto innovativo e che ha avuto il sostegno anche di Unicredit. A sei mesi dalla sua inaugurazione sono circa 500 bambini che hanno beneficiato di questa accoglienza speciale nella sala operatoria e oggi abbiamo pensato di dare proprio voce ai beneficiari di questo progetto, portando una testimonianza dolcissima, preziosissima di una mamma che è stata ricoverata insieme al suo bimbo e di una rappresentante del personale sanitario, in particolare la coordinatrice delle sale operatorie. Entrambe hanno affermato quanto questo progetto di accompagnamento sia importante, tanto che un bambino spaventato, preoccupato e anche angosciato dalla paura dell'intervento, entrando in sala operatoria con sorpresa sgrana gli occhi e possa dire addirittura. Wow! Ed è in corso una profonda azione di rinnovamento per i reparti dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. Si tratta della cosiddetta umanizzazione. Ne abbiamo parlato con il responsabile, il dottor Gatti. All'ospedale Sant'Andrea di Vercelli si sta mettendo in campo un progetto per l'umanizzazione dei reparti. Con noi il dottor Scipione Gatti, che è il responsabile medico del presidio ospedaliero di Vercelli e Borgosesia. A che punto è questo intervento, dottore? Beh, siamo a buon punto. Abbiamo già iniziato nel periodo Covid e nell'umanizzazione dei reparti. Abbiamo già completato il dipartimento chirurgico e abbiamo creato stanza a un posto, a due posti letto, a tre posti letto, invece dei cameroni che erano soliti dell'ospedale, con bagno in camera. Abbiamo rifatto tutti gli impianti gas medicali, climatizzazione centralizzata. Stiamo procedendo, stiamo concludendo adesso l'umanizzazione della cardiologia. Ormai si può dire che è finita, manca soltanto l'arredamento che in parte è arrivato. Penso che fra qualche settimana ci trasferiremo nei nuovi locali. Partiremo subito con l'umanizzazione dell'Utik. Utik sarebbe, avete ragione, l'unità di terapia intensiva cardiologica che è attaccata alla cardiologia. Finito questo, il cantiere che si aprirà, penso inizio all'anno prossimo, sarà la nuova dermatologia, più che altro dermochirurgia. Noi siamo uno dei pochissimi centri in Italia che vengono riconosciuti come esperti nel melanoma, con il dottor Gattoni, che è il direttore della struttura adesso complessa, che diventerà a breve della dermatologia e creeremo dei nuovi spazi, dei nuovi locali, dei nuovi ambulatori e una piccola sala operatoria dedicata ai piccoli interventi della dermochirurgia. A seguire poi ci saranno altri cantieri. Concluderemo entro la fine dell'anno l'ampliamento del pronto soccorso del nostro DEA con il progetto Arcuri. Abbiamo creato una piattaforma ex nuovo all'interno dell'ospedale, dove sarà ampliato, non dico raddoppiato, ma un 30-40% di spazi in più, proprio per permettere i doppi percorsi che il Covid purtroppo ci ha imposto di fare, come giusto che sia. Ed ora andiamo a Quarona, dove grazie ai fondi del PNRR nasce una scuola dell'infanzia molto innovativa. A Quarona con il PNRR arriva 1.900.000 euro e subito vengono spesi con uno sguardo al futuro. Sindaco, cosa farete? Bravissimo, uno sguardo al futuro, una programmazione per i prossimi 10, 20, 30 anni. Rilanceremo gli asili, quindi l'asilo nido e la materna e creeremo un polo d'eccellenza appunto dove adesso si trova la materna di Doccio. Quindi l'obiettivo è creare 40 posti per la materna, 30 per l'asilo nido, spostare il polo principale del paese in questa zona perché è più facile da raggiungere e si trova anche sulla provinciale che raggiunge la zona industriale di Roccapietra, Borgossese a Varallo, per cui possiamo anche ospitare chi è vicino a noi. Un progetto che coinvolge bambini da 0 a 6 anni e anche innovativo dal punto di vista proprio dei metodi educativi. Sì, innovativo perché abbiamo lanciato insieme l'ingegnere l'Europiana, il PG, abbiamo lanciato questo progetto di una scuola d'eccellenza che finanzia dei corsi che vanno dall'inglese all'informatica, al teatro, corsi di sci, corsi di nuoto e questo è partito, lo vogliamo potenziare questi soldi del PNR, ci permetteranno di creare anche una struttura efficiente, nuova, con spazi innovativi e a impatto zero che ci darà questo rilancio per attirare nuove bambini, nuove professionalità e dare uno slancio alla Varsese. Solidarietà e buona tavola, tradizionale cena di Natale con Re Biscottino. Serata speciale questa, serata natalizia per l'associazione Re Biscottino che come ogni anno devolve quello che riesce a raccogliere con queste cene di beneficenza. Abbiamo qua con noi la signora Anna che fa parte del consiglio direttivo della Bionovara perché quest'anno è stato deciso che questo piccolo contributo è stato donato a loro per tutto quello che fate per i bambini sempre. So che anche durante la pandemia avete fatto qualcosa quindi grazie di cuore. Ma soprattutto grazie a voi per questa iniziativa e per la sensibilità che dimostrate sempre. Ci avete già aiutato una volta, anche questa volta siete vicini alla nostra associazione. Noi vi ringraziamo e ci mettiamo tutto il nostro impegno per stare vicino ai bambini. Grazie ancora di cuore a tutti voi. Dobbiamo ringraziare un'altra persona che veramente è quello che ci sostiene su tutto ed è il Giorgio, il vero organizzatore di queste feste che ci permettono di aiutare gli altri. Noi cerchiamo di fare qualche cosa per chi ha più bisogno di noi e queste cene di ritrovo con l'associazione Re Biscottino ci permette di raccogliere qualche cosa e dare una mano a chi, come dicevo prima, ha più bisogno di noi ed è più sofferente. Sabina Bovio, presidente di Anfas Novara. Io sono qua e ringrazio per le opportunità. Re Biscottino e la Cunetta sono nostri amici da parecchi anni e partecipano con tanto entusiasmo e tanta gioia alle nostre feste. Questa sera ancora ci hanno voluto qui tra loro. Grazie mille, noi abbiamo tanti progetti, dobbiamo ristrutturare una comunità alloggio nuova oltre al residenziale e al centro diurno che già abbiamo in corso risorgimento. Quindi benvenga l'aiuto di tutti e anche una piccola goccia serve. Grazie davvero. E a Vercelli tantissime proposte per il Natale e tante luci seppura con la massima attenzione ad evitare sprechi di energia. Le luci di Natale a Vercelli tutto pronto per un Natale davvero pieno di atmosfera. Alle nostre spalle la pista di patinaggio di Piazza Paietta che è solo una delle attrattive. Con noi l'assessore Domenico Sabatino. Allora, prontissimi? Sì, siamo pronti, siamo partiti il 26 di novembre con la pista di patinaggio e abbiamo fatto anche l'inaugurazione delle luci in città. Abbiamo illuminato 39 vie con 350 adesioni delle commercianti vercellesi che si sono autotassati per poter illuminare la città con un occhio di riguardo anche al consumo energetico. Perciò luminari è tutte completamente a led. Timer a mezzanotte. Timer a mezzanotte. Inizieremo dalle 17 a più o meno mezzanotte, mezzanotte e mezza per permettere magari a fine settimana anche all'attività di avere un po' di luce. Però stiamo molto molto attenti a quello che riguarda il consumo energetico in questo anno che è molto particolare. Però ci tenevamo e i commercianti ci tenevano a avere una città comunque attrattiva ma con un occhio di riguardo. Con tanti mercatini, musica, iniziative davvero alla grande sotto il titolo che riunisce tutto, le radici del Natale e le luci di Natale. Sì, le radici del Natale e le luci di Natale. Questo voluto dall'amministrazione Corsaro e dal mio collega Assessore Pozzolo tramite le politiche giovanili siamo riusciti a fare sia un villaggio di Babbo Natale che varie animazioni, sia street band, concerti. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.